E tu? Sì, sto dicendo proprio a te. Sei stanco di spacchettare tutto il giorno su FIFA 15 imitando youtuber famosi? E allora vieni qui e ho per te la soluzione. Figurine dei calciatori panini. La nuova frontiera del collezionismo. Potrai trovare calciatori del calibro di... Jonathan Spinesi, Patrick Mbomà, Moreno Torricelli, Damiano Tommasi e per i più fortunati le gambe di Ronaldo in limited edition. Che cosa aspetti? Le figurine dei calciatori. La nuova frontiera dell'intrattenimento. Un saluto a tutti i amici del web. Sono Dato Bax. Qui con me c'è Assio Zeta. Ciao ragazzi. Milano Juventus. Contro di Camp Italia. Quale Camp Italia? Scontro Scudetto. Si decide la caviera di due allenatori. Ecco qui. Gli allenatori che fanno anche i telecronisti. Stefano Cassano, per i pregiunti, per il contropiede. Cassano, il tiro. No. Si. 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 Attacchino, per i pregiunti. Il movimento, per i pregiunti. Il tiro da fuori. Mi ha dato da metto e cinquanta metti. Arturo. No. Pepe. Non è male. Tira. Ci porta. Taro, 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 taro. Taro, 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 taro. Taro, taro, taro. Taro, 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 taro. Non siamo a 7 gol. Alessandro. Patri. Il primo tiro è un gol. Grande gol per la piazza. Guarda, a piatti come si buzza. Guarda, a piatti come si buzza. Bastava che si stendeva. Il Veloce. Il movimento è il Veloce. Guarda, guarda, guarda. Il Veloce. Il Veloce. Bellissimo. Il movimento. Ma cosa fa? Lo Slavo. Il 105. Il Veloce. Il Veloce. Kevin. Prince. Ibrainoic. Marchisio. No. Chi abbiate che t'ha fatto. L'ha presa con lo stingo della braccia. Come si chiama lo stingo del braccio? Il compagno. Come si chiama? Il compagno. Cerca di confondere azzio con queste domande di anatomia. E cerca di andare al contropiede. Come Marchisio ancora. Per Stefano Pirlo. Pirlo. Per Seedorf. Carica il destro. Guarda, dai, dai. Do a due l'ora. Il profondo sembra arrabbiato con un soffragilio alzato e l'altro no. Kevin Prince Aquilani. Il cross a centro. Stratenito. Gertino. Il profondo. Incredibile. Real 2. Real 2. Il dribbling. Esce il portiere. Io come so. E se la prende con se stavo. Prende una capra. Mezza al campo. Con lo scarpino verde. Cristiano. Sei che è sbagliato. No, non vale. Non vale. Non vale. No, no. Non vale così. ma che cosa? ma che cosa? ma che cosa? ma che cosa? guarda! se ancora non ci hai guardato è fermo è fermo è assolutamente immobile che è l'imprinz? perchè l'imprinz? ma che è l'imprinz? ma che è l'imprinz? questo signore attenzione Vucinic ma come sta giocando questo Milan attenzione Kevin Prince ma dov'è? fuori gioco ha fischiato perchè Ibrahimo ci si è fatto il codino Vucinic vede la scatta sbaglia per Matri attenzione forse la prende matri si arriva dalla panchina per gridare qualcosa nooo ma che gol è? nooo vengo fuori vengo fuori che gol sono questi nooo meno male Sergio Aquilani per Van Bommel come si chiama? lo distrai ancora una volta la tecnica della distrazione di Dato Bucks a riuscire Antonio Poi vedi che stai continuando a fare tattiche vabbè ancora bacini testa non è vero perchè non grosso Cassano Cassano Bambini ma non va non va ma cosa aveva fatto Fanto Antonio c'è il vittoria, vittoria, la Euro vince, il vittoria ha perso la porta ma ha fatto la doppietta guarda i gol però, guarda che gol ma ha persi, il dribbling, è tutto solo, arriva Wiltshire Buffon Wiltshire che non sapeva neanche lui che sapeva segnare e infatti non ha segnato Gigi, Wiltshire Wiltshire, non sapeva neanche lui che si stava quando mi incontro, scusami fuori gioca e lo fai una roba perché io ho giocato il mondo